Vi dico francamente che rimango proprio estasiato per la bellezza di questa opera d'arte, vale la pena veramente intervenire, sono convinto che merita un autentico restauro, credo che questo sia un bene culturale della nostra città che vale la pena essere messo in opera. Devo dire che l'idea di organizzare questa conferenza stampa qua sui ponteggi e vedere da vicino questo campanile è molto interessante e utile anche per le valutazioni che poi tutti insieme faremo, però anche vedendolo da vicino è molto curioso e sarà interessante vederne l'evoluzione oltre che della messa in sicurezza ma anche del recupero della storia della costruzione del medesimo. Mi spaventava un po' l'idea di questo intervento, poi grazie all'otto per mille, grazie alla fondazione CRC e anche alla fondazione CRT abbiamo messo insieme il primo blocco che ci serviva di denaro. Noi non riusciremo a fare chissà che cosa ma almeno a salvarla sicuramente è importante e se poi riusciamo anche a ripristinare qualcosa in modo che l'occhio abbia la sua parte da sotto, da chi fotografa in basso. L'assorgente dell'otto per mille alla Chiesa Cattolica è fondamentale per tanti cantieri, solo quest'anno parliamo di circa 12 milioni di euro di interventi chiesti a Roma per un totale di progetti che superano in 19 milioni di euro solo per il Piemonte e la Val d'Aosta. Un recupero anche della lettura e del racconto che questo monumento fa. Dietro c'è una comunità, c'è una comunità che l'ha voluto, c'è una comunità che l'ha progettato, c'è soprattutto una comunità che l'ha pensato. La bellezza è un po' la linea direttrice su cui lavora Fondazione CRC da tempo, forse da sempre ma sicuramente da tempo. Sono molto felice di essere qui, sono molto felice di attestare la presenza di Fondazione CRC a fianco di un'iniziativa così bella. Davvero qui varrà la pena fare in ogni modo, fare tutto il possibile perché non ci si fermi alla messa in sicurezza, non ci si potrà fermare perché sarebbe veramente un delitto. Mi viene da dire che come questo campanile ormai è al centro della città, la guida cerca di porsi al centro della vita della comunità di questa città. Questa chiesa qua nella mia famiglia per mio padre era la Gesia Neova un mes di pra perché dice l'aneddoto era questo che quando sono venuti l'avrebbero costruita laggiù in piazza Galimberti, poi sungavasse la giacca e l'hanno spinta fino qua in mezzo ai prati, tant'è che dopo non trovavano più le giacche. Questo era l'aneddoto curioso che ho respirato. In realtà a me preme dire questo, che sono contento di aver sempre ovviamente sostenuto queste altre iniziative della diocesi sul piano culturale e sociale. Se riusciamo ad andare fuori dall'ordinario, così come diceva il direttore della guida, riusciamo con il giusto grado di affiatamento a contribuire ciascuno per il proprio comparto alla realizzazione di un intervento molto ambizioso. La speranza è quella di riuscire a fare un passaggio in più perché l'ente di tutela è assolutamente prescrittivo rispetto al tema della messa in sicurezza, al contrario auspica un restauro conservativo che ne riporti anche alla luce la dignità estetica e di fruizione. L'operazione di messa in sicurezza è stata molto importante perché ovviamente necessaria, ma è stata importante dal punto di vista della conoscenza materica che ha permesso di creare una proposta di intervento concreta. I problemi più grossi sono legati a tutto il suo apparato decorativo che invece è particolarmente fragile e dava appunto dei problemi di sicurezza perché continuavano comunque a staccarsi dei pezzi cadendo sia su spazi pubblici che sugli spazi dell'oratorio, quindi con un grosso rischio di sicurezza. Quest'ati è composta da Paolo Belli, Alessandra Raffo per la parte di ceramiche e di terre cotte perché questa è la sua specializzazione nel campo del restauro e Tempore Studio, qui abbiamo Sara Brondetta per la parte materica di superfici decorate dell'architettura. Qua potete vedere delle stuccature finite come se si terminassero i lavori ora, quindi con la messa in sicurezza e un esempio di una porzione che abbiamo portato a compimento per come intenderemmo lavorare se si procedesse con il restauro completo. Il problema principale era portato da un degrado causato dalla presenza forte di muschi e di cheni che sicuramente comunque su questo tipo di superficie non vanno bene soprattutto sul cemento. La particolarità di questo campanile qua che essendo stato costruito nel primo novecento, diciamo nel file ottocento perché è stato terminato nel novecento due se non erro, ha un'ambitoria costruttiva dell'ottocento cioè senza l'uso di cemento armato ma in quel momento arrivavano i primi abbozzi di cemento per cui si cominciava già a miscelare le due cose con calcestruzzo, calce e quant'altro. Questo ha portato ad avere dei piccoli difetti quelli dell'uso del ferro all'interno della struttura che col tempo facevano sì che gli intemperi entrassero e facessero laminare il ferro aumentando nel suo volume e spaccando la struttura stessa. Non avrebbe senso interrompere il lavoro a questo punto, l'abbiamo detto e ripetuto tutti, l'augurio e la speranza è che a fine anno possiamo vedere il campanile senza i teli, senza i ponteggi riportato il più possibile, non dico all'originale ma in modo che possa essere ammirato più di prima. Grazie. 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 Grazie.